Amici Trebimeteo, bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, che vede ancora maltempo in molte zone dell'Italia per la presenza di una zona di bassa pressione posizionata proprio sulle nostre regioni centro-settentrionali. E così la nuvolosità sarà estesa un po' a tutto il paese, ma soprattutto al centro-nord, al sud non mancheranno anche delle schiarite, soprattutto sulle isole maggiori, in effetti al sud anche le precipitazioni saranno molto contenute. Vediamo le piogge previste che insisteranno soprattutto nell'Italia centro-settentronale, con anche delle nevicate sull'arco alpino a quote medie, il sud invece solo di tanto in tanto vedrà passare qualche breve piovasco. Quindi in definitiva giornata di maltempo al centro-nord, piogge diffuse, neve diciamo in montagna, anche temperature relativamente contenute al centro-nord, spesso non oltre i 9-10 gradi, invece al sud tempo più variabile, con anche qualche schiarita e al sud temperature anche molto miti. Sicilia e Puglia potrebbero superare i 20 gradi.